Ciao ragazzi, ve l'avevo già anticipato ma finalmente sono arrivate le luci per le portiere anteriore della MiA 45S Comunque nel dettaglio queste luci le potete montare su qualunque classe A basta che sia una W177 Ma ora andiamo a stuprire la sime Dentro nella confezione ovviamente troveremo una coppia di luci che andremo a installare una sulla portiera di destra e una su quella di sinistra Infatti questa per la portiera di destra e questa per la sinistra Queste nel dettaglio hanno un logo particolare perché infatti hanno la scritta A45S con l'S rossa e sotto di S abbiamo anche la scritta AMG quindi A45S e sotto AMG Costano tenti sterline e sono facilissime da montare Infatti ci basterà smontare le originali che sono montate a incastro nelle portiere Quindi utilizzeremo un cacciavite dalla punta piatta Le faremo saltare fuori dalla propria seta e andremo a scollegare il connettore che abbiamo sulle luci Poi andremo a collegare quelle nuove e le reincastreremo nelle portiere E sono montate e funzionanti quindi è un lavoro di proprio due minuti scarsi Comunque queste sono vendute da A35 Store che ringrazio anche per il regalo Ora vi saluto e ci rivedremo dopo che le avrò installate Ciao ragazzi